Signor Connery, voglio riavere il mio lavoro. E io voglio giocare con gli Yankees. Le prometto che non succederà mai più. So che non succederà più, è il bello della parola licenziare. D'accordo, senta. Lei è una brava ragazza, ma questi sono affari purtroppo. Abbiamo perso un cliente importante, non posso permettere che accada di nuovo, non adesso. Non accetterò un no come risposta. Ammiro la sua determinazione. Chiamo subito la sicurezza. Senta, in un modo o nell'altro lei dovrà ascoltarmi. Mio nonno, Gregory Gregerstich. Ok, ci siamo. Costruì un negozio con le sue stesse mani. Un mese dopo arrivò un tornado tremendo e distrusse tutto. Devo averlo letto da qualche parte. Ma questo è bastato a fermarlo? No. Oh, i brividi. Ha ricostruito il negozio, l'ho aperto di nuovo e oggi è ancora in attività. Ha detto proprio Gregory Gregerstich? Esatto. Pensi a quando ha avuto il suo primo incarico importante. Non ha mai commesso degli errori. Non ha mai sentito di meritare una seconda possibilità. Oh, cavolo. Questi sono i clienti della Norwegian Towers. La sua ufficiale seconda possibilità. Vada. Grazie, signor Connelly. Non se ne pentirà. D'accordo, d'accordo.